Pronto Masia, nel cuore dell'area di rigore, sul secondo palo, il gol, il gol del vantaggio di Bacchini, il numero 5 sulla spizzata nel cuore dell'area di rigore, Bacchini. Questo match, con questo calcio di punizione, Tempesti, anzi è Bacchini, il suo colpo di testa e il pareggio dell'Empoli al 24esimo.